Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo all'interno del piccolo refettorio. Ecco, siamo nei primi anni della permanenza di Padre Pio, questo era il refettorio della Fraternità, ci ha indicato il posto con una data, 1928, perché in realtà il posto preso da Padre Pio era nel grande refettorio, che spesso vediamo, dove lui era il direttore dei fratini, dei seminaristi, quindi doveva stare con loro. Poi lui chiese al Padre Guardiano di poter stare insieme alla Fraternità e lui venne qui, quello fu il suo posto nel 1928. Oggi qui, proprio per raccontarvi quello che accadde, proprio nei giorni che seguirono immediatamente il crollo del fascismo. Una ragazza, figlia spirituale di Padre Pio, indicata ingiustamente come collaborazionista, presa dai partigiani, con un processo sommario, condannata a morte. Era del tutto innocente, ma non aveva nessun modo per provarlo. In questi frangenti, presa dall'angoscia, si mise subito ad invocare Padre Pio, con tutta l'anima, finché le venisse in aiuto. Intanto però veniva condotta sul luogo dell'esecuzione. Improvvisamente, lo racconta Don Pasquale Cataneo nelle sue memorie, mentre si stava per attraversare una strada, sopraggiunge una colonna di autoblindo, autoambulanze, truppe che dal sud risalivano al nord. Il corteo dei partigiani che conduceva la ragazza al luogo dell'esecuzione, allora fu costretto a fermarsi, finché tutta la colonna dei militari fosse passata. Intanto la ragazza pensava che quel passaggio sarebbe pur finito e allora si sarebbe ripreso il cammino e lei sarebbe stata comunque fucilata. Perciò invocava con fede sempre più crescente Padre Pio. Lo chiamava. La colonna dei militari però ci mise molto più tempo del previsto per passare e in questo frattempo i partigiani si erano stancati, si erano anche dispersi. Era rimasto con lei soltanto il comandante che era al suo posto, sì, ma era privo di ogni capacità immobile. In tutto questo frattempo alcuni amici della ragazza, saputo quello che era successo, si affrettarono a raccogliere delle prove. Prove sulla sua innocenza, portarle a chi di dovere. E mentre lei era ancora sulla strada, in attesa del suo destino, improvvisamente viene affiancata da una macchina da cui si sporge un signore che le dice categoricamente di essere libera e si presta a riportarla subito a casa. Ma mentre così ritrova inaspettatamente la via della libertà a casa, succede uno di quegli episodi disgustosi di sciacallaggio. Alcuni malviventi, credendo che la ragazza fosse stata uscita, si diedero a saccheggiare tutta la sua abitazione con estremo spavento della sorella che stava assistente impotente anche a quella scena, finché udì per due volte, ben due volte, una voce possente, potente, che gridava basta, basta. Allora i disgraziati a quel grido piantarono tutto là e si diedero immediatamente alla fuga. Quando la ragazza arriva a casa e sa della sorella, dell'accaduto, ritiene senz'altro che quella voce che aveva messo in fuga gli sciacalli era proprio quella di padre Pio che così non solo l'aveva prima salvata dalla morte, ma poi l'aveva anche protetta da quei malviventi. Qualche tempo dopo, appena lo poteva fare, si recò a San Giovanni Rotondo, andò a ringraziare proprio padre Pio, il quale accogliendola proprio con un sorriso le disse, con la tua fede figlia mia sapessi quanto mi hai fatto correre.